è stata la serata dei del vecchio quattro gol di gennaro quattro gol di marco e spesso vi siete scambiati i favori contro il marocco sì oggi abbiamo trovato un'intesa totale con marco e speriamo che riusciamo a trovarla anche domani che sarà sicuramente più difficile oggi è stata una partita inizialmente molto facile poi abbiamo complicata poi siamo stati bravi con determinazione e portarli al termine senti qual è stato il gol più bello naturalmente uno dei miei non di marco sto scherzando penso il gol più bello sia stato l'assist che ho fatto su marco non ricordo quale quale era il preciso risultato ma l'assist che ho fatto a marco una curiosità hai mai avuto paura di perdere questa semifinale no perché avevamo tanto tempo a disposizione quindi ci siamo un attimo parlati a fine del primo tempo abbiamo deciso di mettere più attenzione di resettare quelle che erano state le lacune e di mettersi più determinazione per portarla al termine in maniera positiva come poi abbiamo fatto Mirko Cudini al termine della partita giocata e vinta ma solo nel finale col marocco è stata veramente una una battaglia complicata correvano sì diciamo che la fine ce l'abbiamo fatta però con una squadra nuova in questo questo sport è però diciamo che ci ha dato filo da torce ragazzi che corrono quindi hanno fatto è venuta fuori una buona partita e alla fine siamo riusciti a vincere hai fatto il difensore puro questa volta non ti sei sbilanciato troppo non potevi sì oggi molti giocatori offensivi in squadra quindi chi ha queste qualità io compreso in primis forse è giusto che le mette in opera e quindi sì mi adopero molto ma molto volentieri quando poi davanti abbiamo giocatori che hanno queste qualità che poi alla fine ti fanno ti fanno sorridere